Siamo trovati subito con la T41 a fare la stessa maniera. Promuovere attività ed eventi e migliorare e accrescere i servizi. E' questo l'obiettivo della sinergia tra il Comitato Provinciale di Asi, la cooperativa sociale T41B e l'amministrazione comunale di Pesaro che aveva indetto una manifestazione di interesse per la gestione di 20 impianti sportivi. Ora le due realtà, grazie ad una coprogettazione, si occuperanno del Camposcuola di Villa San Martino, delle palestre Carducci, Turati, Palatré, Ledi, Mareccelletta, più 14 piste polivalenti. Abbiamo costruito un'associazione temporanea di imprese, ha spiegato la presidente di Asi Francesca Petrini. Noi abbiamo un'esperienza pluriennale nell'ambito della gestione di impianti e della promozione sportiva, mentre la T41B ha competenze in ambito sociale e di manutenzione del verde, rendendo possibile l'inserimento lavorativo di diverse figure con qualche tipo di fragilità. Infatti, come ha dichiarato Michele Gianni, presidente della cooperativa, verranno attivati dei tirocini, ma anche i progetti di utilità collettiva destinati ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Sull'attività sportiva, dove noi come Asi siamo più specializzati, al Camposcuola abbiamo già riattivato l'Educamp, che era qualche anno che era assente dal Camposcuola e questa settimana sempre sta partendo il camp sportivo di calcio della Raffaella Manieri. e sulle altre palestre in realtà ci sono già attività, intendiamo portare avanti quello che tutti gli anni veniva fatto, quindi lo stesso programma più o meno annuale delle varie società sportive, fra basket e piuttosto che ginnastica dolce o altre realtà, verrà portato avanti. Quindi noi come Asi, dove magari ci sarà qualche buco negli orari, potremmo proporre qualcosa di nostro, però in realtà il nostro lavoro sarà quello di portare avanti e gestire queste attività che già erano strutturate gli scorsi anni. L'Asia è una realtà che sta crescendo di anno in anno, sia a livello locale che nazionale, offrendo affiliazioni e tesseramenti a tutte le società sportive, l'iscrizione e registro del CONI, consulenza e formazione. Quindi, come sottolineato dalla Presidente Petrini, può essere di supporto e di aiuto alle tante associazioni sportive che utilizzano i vari impianti. Di fatto ci sarà un occhio in più sulle piste polivalenti, che sono i classici campetti di quartiere, quindi di fatto non vuol dire che quei campetti non potranno essere utilizzati dai cittadini, ma potranno essere utilizzati con un occhio in più da parte, diciamo, di una società che gestisce quelle piste per l'amministrazione comunale, quindi una retina che è stata rotta, una staccionata che è stata ammalata, si è rotta. Quindi ci sarà chi provvede in autonomia alla sostituzione. Per quel che riguarda il campo scuola, aumenteranno le attività che sono lì, aumenterà il presidio e la presenza delle persone che gestiranno e custodiranno quello che diciamo è il patrimonio dell'amministrazione comunale, ma è il patrimonio di tutti. Stessa cosa per gli impianti sportivi, nel caso specifico si parla di cinque palestre che avranno una gestione diretta da parte di questo soggetto.